Tempo di bilanci per lo staff del Vicenza Short Film Festival, che è messa internazionale dedicata ai cortometraggi, conclusasi domenica con un ottimo riscontro di pubblico e critica. Una seconda edizione all'insegna della cultura e del cinema di qualità, che rappresenta un punto di partenza importante in vista del 2019, come spiega il direttore artistico Antonio Palo. Un bilancio assolutamente positivo, il pubblico che è venuto era contentissimo delle proiezioni, le proiezioni sono piaciute un sacco e molte persone non vedono l'ora di tornare. Abbiamo ricevuto una disponibilità sia dagli ospiti istituzionali che dagli ospiti artistici, una disponibilità a nuove collaborazioni e a nuove opportunità lavorative per l'organizzazione e anche per tutto lo staff. Vediamo le categorie, i vincitori delle tre categorie in gara? I vincitori delle sezioni Horror e Trinder e Comedia e Comedia e Comic hanno cumulato i premi, ossia sono risultati i vincitori sia da parte del premio della giuria tecnica sia da parte del pubblico. E sono rispettivamente Nei, Er, di Roberto Bontaponito e il cortometraggio dei Vinna per Bene, legge numero 38 che pone in accento sulle cure paniative e sulle terapia del donore. Invece la sezione sociale drammatica ha visto due vincitori che sono rispettivamente per il pubblico, il corto di Fiorenzo Brancaccio e per il premio della giuria tecnica Departures, partenze, di Nikonas Morganti Patrignani. In vista dell'edizione 2019, che cosa immaginate come organizzazione? Immagino siate già al lavoro per progettare la terza edizione. Sì, non ti saprei dire niente di certo, ma siamo già in questi giorni al lavoro per pianificare quella che sarà l'edizione del 2019. Confidiamo in un intervento, in un sostegno pubblico e non sono privato, ma continueremo ugualmente con la nostra linea e con i nostri valori che ci hanno contraddistinto in questi due anni, ossia la centralità nel progetto sia dei giovani protagonisti che li realizzano, una centralità che si estende quindi anche al pubblico, un pubblico di nicchia per un evento esclusivo e allo stesso tempo un evento che pone l'accento anche su una componente territoriale.